Buongiorno a tutti signori, salve a tutti voi i miei followers, i miei iscritti e gente che si approccia a questo canale per la prima volta, qui nel vostro bio, su Shoutout Game Channel, community. Ho una comunicazione da farvi, ho intenzione di fare una pazzia, per i 300 iscritti, oltre a dare il gioco di Batman Arkham City, origin, dipende da quello che riesco ad avere, ho intenzione di dare in estrazione il gioco di For Honor per PC. Esattamente signore, ho intenzione a raggiungere i 300 iscritti, di dare il gioco For Honor per PC. Piccola puntualizzazione, se i 300 iscritti verranno raggiunti entro la fine di questa settimana, ok, io farò a voi che mi seguite, a voi che mi iscritti, la possibilità di iniziare tramite estrazione il gioco di For Honor per PC, edizione standard ovviamente. Per cui ragazzi spero di fare per voi cosa credita, spero di farvi felici, seguitemi in tanti, venite durante le mie live, seguitemi e soprattutto siate presenti, perché se entro domenica si raggiungeranno i 300 iscritti a questo canale, avrete la possibilità di vincere tramite estrazione, oltre al gioco Batman Arkham Knight o Arkham City, il gioco anche di For Honor per PC edizione standard. Mi raccomando ragazzi, questo è un regalo per voi, per ringraziarvi. Un bacio, un abbraccio, ci rimettiamo tra pochissimi minuti con la giornata di una coppina. Svecci, ciao!